6 astronauti, una sola missione, salvare la Liguria, 5 sconosciuti, un unico problema, ricordarsi l'alfabeto Morse, 11 calciatori, un unico obiettivo, la porta aliena, 11 alieni, un preciso scopo, vincere qualunque partita, un presidente, un unico impegno, sconfiggere coraggiosamente il nemico, una guardia del corpo, un compito pericoloso, sparare e difendere. I tre giorni più lunghi dell'umanità sono iniziati, e non nel migliore dei modi, il film che farà tremare la Liguria, e non solo, ci ammazzeremo tutti. Liguria Film Company presenta, il primo film interamente italiano di fantascienza. Invasion, alieni in Liguria. Mai vista una cosa così? Neanch'io. Dieci minuti di convivenza ed è già scoppiato il primo casino. Gli sparo. La Liguria non sarà mai più la stessa. Ci stanno sterminando. La Liguria non sarà mai più la stessa. Grazie a tutti